Oggi parliamo dell'istituto dell'udienza preliminare. Per comprendere appieno questo concetto, questa nozione, dobbiamo fare una fondamentale premessa. Quando il pubblico ministero decide, opta per l'esercizio dell'azione penale, quindi di andare a processo, quindi di non archiviare il procedimento, formula la richiesta di rinvio a giudizio. In essa il PM individa l'imputato, formula a suo carico l'accusa, la cosiddetta imputazione, che consiste appunto nel dire tizio è colpevole del reato previsto dall'articolo, eccetera, eccetera, in relazione alla quale imputazione, descrive i fatti commessi, comportamenti delittuosi e indica le norme violate. Questa richiesta di rinvio a giudizio viene trasmessa al giudice che se ne occuperà, se ne prenderà carico proprio nell'udienza preliminare. Quindi abbiamo un PM che ha svolto delle indagini che raffiguriamo sempre con una lente di ingrandimento, concluse le quali ha deciso di esercitare l'azione penale perché ritiene di avere sufficienti elementi a carico dell'indagato per sostenere l'accusa contro l'indagato. Quindi esercita l'azione penale in particolare formulando richiesta di rinvio a giudizio, l'atto di cui abbiamo parlato finora. Quindi il nostro PM ridige questo atto la richiesta di rinvio a giudizio, completandola con l'imputazione, che trasmette ad un altro mino che il giudice per le indagini preliminari. A questo punto il GIP convoca PM difesa in un'udienza specifica che è l'udienza preliminare. In tale sede il GIP non è più un GIP ma è un GUP, cioè giudice dell'udienza preliminare. Ma in tutto ciò qual è la funzione dell'udienza preliminare? A che cosa serve? Innanzitutto essa costituisce un filtro alla richiesta, alle richieste di rinvio a giudizio. Attraverso l'udienza preliminare, in sede di udienza preliminare in particolare, il giudice, il GUP, controlla se il pubblico ministero ha scelto in modo corretto, sensato, ragionevole di sercitare l'azione penale. In questo modo così si evita di instaurare processi inutili, processi che non avrebbero alcun esito se non quello dell'assoluzione. Tuttavia dobbiamo precisare che l'udienza preliminare non è prevista, non si tiene per tutti i reati ma soltanto per quelli più gravi. I restanti casi, i restanti procedimenti seguono il meccanismo invece della citazione diretta, in cui non c'è, in cui si salta l'udienza preliminare, quindi si va dalle indagini direttamente al processo, al dibattimento. Non dobbiamo dimenticare che l'udienza preliminare ha anche un'altra funzione fondamentale che è quella di essere la sede, come vedremo, di svolgimento dei cosiddetti riti alternativi, come il giudizio abbreviato. Riepilogando la lezione come di consueto abbiamo parlato dell'udienza preliminare, vedendo in concreto di che si tratta e analizzandone le principali funzioni.